Sento che si muovono delle cose là dentro. È un organo nuovissimo, mai visto prima. Tutti percepivamo che il corpo fosse vuoto, privo di significato. E volevamo averne la conferma, per poterlo riempire di significato. Il mondo è diventato un luogo molto più pericoloso, ora che il dolore è quasi scomparso. La chirurgia è sesso, vero? Lo è. Sai che lo è. La chirurgia è il nuovo sesso. A loro non piace quello che succede al corpo. Soprattutto quello che succede al mio corpo. Per questo continuo a tagliarlo. Cosa credi che trovereppero dentro? Lo spazio cosmico. Ops. Scusa. Basta aver paura di mappare il caos dentro. Dobbiamo creare una mappa che ci guidi nel cuore dell'oscurità. Oh. Basta aver paura di mappare il caos dentro. 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 Basta aver paura di mappare il caos dentro.